Rafforzamento finanziario, contributi alle imprese che assumono, aumento delle risorse per i comuni, fondi per il rinnovo del contratto dei dipendenti regionali e per la stabilizzazione del precariato storico, investimenti nei servizi essenziali e per il contrasto agli incendi. Sono questi alcuni punti del disegno di legge di stabilità regionale che vale 900 milioni di euro e che è stato approvato dal governo Schifani. Si tratta di un testo di 40 articoli che prevede anche l'accantonamento prudenziale di 900 milioni sul triennio. Il disegno di legge approderà adesso all'Assemblea regionale siciliana per l'esame delle commissioni di merito e poi dell'Aula. In particolare il nuovo accordo finanziario della regione siciliana con lo Stato garantisce risorse aggiuntive per 350 milioni di euro nel 2024. L'accordo vale 2,2 miliardi di euro fino al 2027 e 4 miliardi di euro fino al 2030. La legge di stabilità prevede contributi alle imprese fino a 30 mila euro per ciascun lavoratore assunto, 10 mila euro all'anno. In totale sono stati stanziati 300 milioni di euro nel triennio 2024-2026. La norma intende promuovere la stabilità dell'occupazione favorendo le nuove assunzioni a tempo indeterminato e le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato nel 2024. Per il 2024 sono state assegnate al settore della forestazione 197,3 milioni di euro per la prevenzione antincendio ed il rafforzamento del servizio aereo. La tassa automobilistica sarà ridotta al 20% nel 2024. Per le scuole statali le risorse saranno aumentate di 5 milioni rispetto al 2023 e si punterà ad avvicinare i giovani allo sport attraverso l'inclusione sociale contrastando le disuguaglianze. Il provvedimento da 2,5 milioni di euro è destinato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 6 e 16 anni appartenenti a famiglie a basso reddito. Particolare attenzione da parte della regione che riconosce i comuni di Gela, Licata e Butera ha titolo compensativo per l'attività estrattiva dei gecimenti di idrocarburi una quota fino a un massimo del 30% della liquota aspettante alla regione siciliana. Per la riclassificazione dei dipendenti regionali sono previsti 3,4 milioni di euro e 4,3 milioni di euro per il rinnovo contrattuale. Per i lavoratori delle attività socialmente utili sono stanziati in totale oltre 56 milioni di euro a copertura della prosecuzione delle attività e per l'integrazione oraria fino a 36 ore settimanali. Per Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025 infine previsti in totale 10 milioni di euro per far fronte alle spese per le attività di promozione del territorio e per l'organizzazione degli eventi a supporto dell'iniziativa.